ciao 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 ragazzi siamo qua nuovo video oggi è il 4 maggio è partita la nuova season la season 11 non ce la ce l'ho più veramente la season 10 mi ha spaccato completamente i cosiddetti adesso vediamo di entrare subitissimo in game lo vedo per una volta con voi non sono ancora entrato quindi non so cosa succeda lo vediamo immediatamente vi ricordo che il mio gioco l'inglese ma cambia poco vediamo subitissimo eh oh supercell decimo ciao giovanni ciao ma fail ma dai ma come vabbè allora mentre aspettiamo ci guardiamo nel youtube ufficiale di clash royale il video dedicato a stagione 11 clash royale stagione 11 ci saranno i draghi sblocca una emote gratis vediamo schermo intero e vai dragon spa freemote clash royale stagione 11 ci saranno i draghi bello bello combatti nella nuova bollente arena supercell diventa maggiorenne sblocca un emote gratis testa la tua abilità dei draghi dragonesca nella challenge bella your dragon skills e sblocca la prima emote del drago infernale un carino a questi qua sono le ricompense del pass 40k un po di bauli gettoni logicamente è l'emote carina 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 fa un botto di draghi season 11 play now vediamo anche nelle notizie royale che questo me le fa vedere le ricompense e le diciamo le cose importanti per la season 11 allora season 11 cos'è il pass royale scarica sblocca più stanta reward uniche collezionando le corone va bene nulla di dire allora ci qua sono i contenuti esclusivi abbiamo la torre del drago che sarà bellissima quella voglio per forse le cose una emote del cavaliere esclusiva una volta che questo hai fatto tutti i tuoi sblocchi rimarranno per te con te per sempre vabbè logico 35 sono diciamo gratis 35 solo si scioppate il pass abbiamo la torre l'emote 40k 6 lightning chest con il pass royale 3 rari 4 epici 4 trade token quindi una testa abbiamo perfettamente fino a 7 strike per questo esclusivamente se siete dall'arena 6 in su se sciopate il pass e gli strike dicono che vi danno possibilità di scegliere le carte che volete vabbè più o meno una carta leggendaria garantita quindi una leggendaria chest e niente a dire questi qua sono i pierce con il pass royale bloccherai il rientro e continuo per le challenge l'allocche automatico delle delle chest dei bauli gli strike abbiamo appena detto la e netto di spasso real golden name aveva chiaramente il nome vi viene diventato lorato che è nulla dire e poi possiamo fare il il regalo a tutti i nostri amici del clan il bonus bank lo possiamo riscattare quello nella stagione precedente come funziona quelli free possono andare avanti ogni 24 ore invece quelle che hanno scioppato possono potremmo finire il pass potenzialmente un giorno gioca anche senza se non ha il pass royale può comunque guadagnare queste free reward che sono la king emot del decimo anniversario supercell molto carina 34 crown chest che contengono le gemme e comunque leggendari chest ok come faccio vabbè per devo fare non fare ok adesso proviamo a vedere se supercell ha deciso di finire manutenzione è passato un po di tempo vediamo se stavolta stavolta funziona sperando che non sia ancora in manutenzione speriamo tre due uno siamo dentro the dragon spice open season 11 begins see the fury new arena in action and check out the free supercell third anniversary mode ma 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 in inglese spaca sempre bello bello watch no basta lo abbiamo già visto si sono risolta 6110 cap 5000 quindi hanno fatto il 50 per cento secco perché ho 6110 5555 50 per cento secco di di taglio vediamo un po questo qua è la scalata ai trofei e 5000 e picco qualche un baule leggendario per noi un gettone poi ci saranno un po di gemmette un magico un altro leggendario un gigante un magico questa stagione qua io non dico 7.000 perché oddio però le 6.000 dai 6.000 3.000 6 voglio giocarmela voglio giocarmela eccoci qua abbiamo abbiamo un nuovo evento supercell 10th anniversary rager bello bello qui dovrò chiedere poi carte va bene qua ci sono cose nulla a dire mi piace un sacco questa questa è bellissima questa veramente spettacolare ragazzi l'arena la nuova leggendaria è bellissima con il drago lì fighissimo io direi che ci soppiamo il pass adesso lo scioppo e poi torniamo ecco qua qui ci sono delle varie cose ma io voglio questo a tra poco elaborazione in corso ok pagamento riuscito o le abbiamo i 15.000 da recuperare l'altra stagione prendiamo subito ed eccole qua prendiamo la premissima e compensa mille d'oro bello c'è guarda te lo da subito tu lo dà il primo colpo la emote e tu lo dà anche nel anche nei giocatori qui non fanno non shoppano il pass bellissimo poi qui saranno un po di cose la torre come solito al 10 la torre voglio vederla qua un po di cosette alla fine abbiamo i nostri due bauli leggendari come al suo solito adesso posso mettere in in coda le varie cose qui va tempo prendiamo 300 d'oro bello allora io direi che non so quanto il video stia durando ma partita voglio farmela e io direi che continuo usare questo mazzo perché l'ultimo mazzo che usavo poi piano piano grazie anche i vostri consigli che vi ricordo di lasciare qui sotto nei commenti vediamo se riesco a inventare un mazzo più decente per questa stagione però per adesso facciamo questa prima battaglia assoluta a tema abbiamo un po di schifezze battaglia allora siamo pronto un new game siamo lì lì eh vediamo subitissimo facciamo un po volume anche troppo non vuoi giocare niente vabbè andiamo noi di battleground vediamo un po' ecco iniziamo bene subitissimo così è bello cattivo difendiamoci con il fantasmino royal sbabim dai una sberla oh vabbè dai qui ne abbiamo contro un mini pecca vabbè dai non è non è infattibile eh e quello che si aspettava quella giocata e qua devo zappare per forza e devo dai guarda ho mancato ho mancato un pipistrellino ma poi che manco un pipistrellaccio dai elettrowizard ok ragazzi qua qua sono danni subatomici eh diciamo che la prima poteva partire è decisamente meglio eh la prima poteva partire molto meglio però dai non è ancora detto eh io vi dico sempre che finché non si perde non si perde infatti va basso un po' che ho visto che non si vede niente ok meglio decisamente meglio vada mi faccio colpire perché non voglio prendere danni a torre per adesso non me ne frega niente non voglio prendere danni a torre adesso lui promette vorrà ripartire io però qua sono pronto stavolta non mi freghi due volte ciccio proviamo la zap vediamo un po' ehi stavolta il pecca è cattivissimo il mio pecca ehi ma ma che mazzo che è? vabbè non è un problema non è un problema è fattibilissimo eh royal ghost subito la zap vada devo zappare via subito e andiamo di bandito questa volta è la ripartenza qua è cattiva andiamo anche a sinistra ah si si guarda ce ne frega niente non è sberla grandissimo mamma mamma ragazzi questa gli ho fatto una ripartenza che se la ricorda fino a 2020 ah no 2021 oh pecca allora puoi anche farmi torre tanto io ti faccio tre corone quindi guarda giusto per non farti fare torre perché sono così con gattivo andiamo subito di bella più 33 prima battaglia nella stagione vinta siamo battiti benissimo 5088 esatto 5088 stepney confirmed ragazzi io direi che per questo video è tutto noi ci vediamo pomeriggio per la prima live in scalata di clash detto questo vi ricordo di commentare lasciare un bel mi piace condividere il video con tutti i vostri amici a dopo ciao ciao